l'effetto è mental la tecnica più semplice per imparare il comportamento fisico del fuoco innanzitutto come prima cosa andate a prendere una reference io nel frigo qua cercavo l'emmental ma non l'ho trovato non c'è un cazzo allora ho cercato su internet e questi non so se si possono oh buono questa roba tutta a chilometro zero eh allora facciamo subito un uale e gli creiamo una punta in modo da farlo sembrare una bella fiammella gli facciamo una peg e lavoriamo solo sulla peg cercando di ricreare quel movimento della fiammella io ho fatto un po rimbalzoni gli mettiamo anche le curve vedete un po qua e verrebbe una roba tipo simile a questa adesso più o meno ecco quel drawing che avete fatto lo dividete con il taglierino in tanti pezzettini e poi gli facciamo i buchi dell'emmental che non sono altro che sferette fatte con la gomma che vanno dalla base alla punta e seguendo il movimento che gli avete dato con la peg andate ad arricchirlo sempre di più finché non vi ritenete soddisfatti a questo punto si vanno ad ammorbidire gli angoli cancellando le parti che non ci servono e ricostruendo le punte per dare la sensazione della fiamma ogni tanto ricordatevi controllo qualità ok funziona si continua ad ammorbidire tagliuzzare appuntire e si aggiungono gli ultimi particolari in questo caso tipo la dissipazione della particella vedi tutto lo sperpero e poi un altro controllo qualità e quando finalmente ci siamo rotti le palpebre gli andiamo ad aggiungere gli effetti e tada avete appena imparato il metodo più coatto antisociale e zingaro per animare un fuoco ciao raga prima di chiudere vi invito a fare un salto sul mio patreon dove troverete un porcaio di cose fighissime se vi interessare moni animazione trovate i link in descrizione ci vediamo alla prossima pillola addios ciao